Allora, stiamo andando avanti nel gioco, da dopo le due missioni, adesso sono obbligato purtroppo, però devo fare un po' di esplorazione. Direi che non faremo più di dieci minuti, anche perché è un po' una noia, però... Cerchiamo il luogo dell'accampamento. Se io dovessi arrivare prima all'accampamento, se hai perso la strada, apri la mappa o usa gli insetti Guida e mi troverai. Ok, allora, andiamo a cercare l'accampamento. Lasci la base senza aver accettato missioni, ti imbarcherai in una spedizione. Non esistono limiti di tempo di svenimenti, quindi potrei esplorare fin quando ne avrai voglia. Non c'è uno che pesca. Questo è un giabras, cioè, sono le classiche delle giabras. Salute a te! Allora, andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Oh, ho trovato un'altra pronta. Oh, poi ci sono un deposito minerario. Ripetiamo il giabras e esploriamo. Il muschio brillante può essere usato come munizioni per la fionda per illuminare le aree buie. Scaglialo, per esempio, contro le pareti di una caverna. Allora, andiamo a cercare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, se non sbaglio, questa caccia termina quando trovo la base, quindi andiamo direttamente la base, andiamo a posto. Ok. Grazie. Grazie a tutti. I grandi? Dove? Non si vedono quelli che dobbiamo seguire. Ok. 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 Non bisogna farlo sfuggire in bronca. È in bronca. È una regata, ma no. Ci sono punti. Quindi è importante. Non bisogna farlo. Attenzione quando un mostro è infuriato. O meglio mettere in attacchi il ritirlo artiglio fin quando non si è calmato. Dov'è? Che amato? È stappato Ci sono olan un'altra cosa... Non so, non so, non so... Sì, sì. Aggancia un mostro con il rampino artiglio per aggrapparti adesso. Sì. 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 Allora, possiamo andare. Come si fa? Rientra nella spedizione. È stato un piacere, alla prossima.